Le noci che acquistiamo comunemente al supermercato con il guscio non sono attaccate alla pianta come tali. La parte comestibile, il seme, è infatti avvolta da una porzione legnosa detta edocarpo. Fin qui nulla di nuovo. Ciò che però molti non sanno è che a sua volta il guscio è protetto da uno strato polposo non comestibile, il mallo, detto mesocarpo, rivestito da una buccia esocarpo. Come accennato, il mallo di noce è la polpa all'interno nella quale l'intera parte comestibile della pianta, cioè il seme che chiamiamo comunemente noce, è immersa. In altre parole, il mallo può essere considerato come la polpa del frutto dell'albero di noci. Quando il frutto è maturo, il mallo è di colore verde. Tale colorazione, con l'avanzare del tempo, si scurisce sempre di più per azioni dei tannini in esso contenuti, arrivando ad assumere la tipica colorazione marrone scuro. Il mallo di noce contiene diversi principi attivi al suo interno, tra i quali spiccano i tannini, i flavonoidi e i naftokinoni. Nella medicina popolare cinese, il mallo e le foglie di noce trovano impiego per il trattamento di una grande verità di disturbi, quali l'asma, la costipazione, la lombalgia e addirittura l'impotenza. Le proprietà coloranti del mallo di noce erano conosciute fin dall'antichità. Difatti, i popoli persiani erano soliti impiegare preparazione a base di mallo di noce, al fine di tingere tessuti e tappeti. Attualmente, il mallo di noce viene tradizionalmente utilizzato in abito alimentare come colorante e aromatizzante nella produzione di liquori, il nocino. Interessanti sono anche le sue applicazioni salutistiche, dal momento che l'olio di mallo viene tradizionalmente impiegato per proteggere e abbronzare la pelle. Tale caratteristica viene sfruttata dai bodybuilders durante le competizioni, per mettere in risalto i dettagli muscolari ed assumere un aspetto più definito. Per la stessa ragione si spiega l'utilizzo del mallo di noce come colorante per conferire i capelli riflessi rosso-bruni. In verità, sarebbe più corretto affermare che il mallo di noce agisce più che altro come riflessante sui capelli e non come un vero e proprio colorante. Tuttavia, in seguito a ripetute applicazioni, il mallo di noce è comunque in grado di scurire i capelli. L'olio ottenuto dal mallo di noce trova impiego in ambito estetico e cosmetico come agente colorante per donare alla pelle un aspetto abbronzato e per arricchire i capelli di riflessi castani. Grazie. Grazie.